Buongiorno, sono Sabina, sono il direttore del Parco Hotel Marinetta di Marina di Imbona. È passato un mese e mezzo da quando abbiamo incontrato a Skipping for You. Sono state chiamate qua Barbara e Antonella per una collaborazione, perché il reparto piani non ci dava soddisfazione, nonostante l'impegno che la nostra governante metteva nel suo lavoro, purtroppo non riuscivamo a ottenere buoni risultati. Con la collaborazione di Antonella e di Barbara, che hanno lavorato sia sul nostro team, sia sul team della ditta di outsourcing, sono cambiati notevolmente i risultati. Siamo riusciti a consegnare le camere in orario giusto. La soddisfazione dei clienti è aumentata, anche il punto di vista su Booking.com e le recensioni sul team advisor sono migliorate per quanto riguarda la polizia. Il clima tra le ragazze è cambiato notevolmente. Si respira serenità, non c'è più l'angoscia, si arrivava in albergo con la paura di non farcela. Adesso sono tutte motivate, sorridenti e il team funziona. L'ordine è cambiato notevolmente, anche questo. La lavanderia è ordinata, gli office sono tutti riforniti nei tempi utili e il lavoro è migliorato notevolmente. Sicuramente sarà da migliorare nel prossimo futuro e richiederemo sempre la collaborazione di Oskiving Coriù. Grazie, grazie Antonella, grazie Barbara.